Nel Settecento ormai la serenissima è periferia dell'Europa sia dal punto di vista politico che economico. I patrizi veneziani da tempo non sono più impegnati in avventure commerciali per mare ma si sono ritirati alla più tranquilla vita di possidenti agrari riempiendo la campagna veneta delle loro splendide ville. Ma dal punto di vista artistico Venezia ha ancora molto da dire. Nella musica come nella letteratura e ovviamente nelle arti visive. È in questa Venezia ancora florida culturalmente che nasce nel 1720 Giovanni Battista Piranesi figlio di Angelo un immigrato di Pirano città istriana da secoli parte dei domini da Mar della Serenissima. Le fonti non sono concordi nell'indicare Mogliano Veneto come luogo di nascita ma è certo che passa l'infanzia a Venezia dove il padre lavora come tagliapietre e capomastro e dove lo zio materno è magistrato alle acque. Queste due figure ne guidano la prima formazione e lo fanno innamorare dell'architettura di Palladio e degli antichi romani. Come detto però Venezia ormai non offre più molte occasioni ad un giovane promettente architetto. Questo nel 1740 a soli vent'anni si unisce come disegnatore alla spedizione diplomatica del nuovo ambasciatore della Serenissima a Roma Francesco Venier. Qui inizia a lavorare come pittore scenografo ed apprende da Giuseppe Vasi, incisore di una certa fama, l'arte dell'acqua forte. Visto che anche a Roma ormai non è più tempo di grandi committenze architettoniche, sarà questa tecnica a fare la sua fortuna presso i contemporanei e poi anche nei secoli a venire. Come stavano facendo a Venezia Canaletto e altri vedutisti, anche Piranesi nel 1747 inizia a dedicarsi alla raffigurazione di vedute, in cui rappresenta scorci della città moderna e rovine gli edifici romani. Non sono vedute idealizzate o tentativi di ricostruzione dell'aspetto originario, anzi grazie al fatto che sono in rovina questi edifici permettono a Piranesi di indagarne e svelarne le tecniche costruttive. Tanti altri a Roma hanno fiutato le possibilità di guadagno del crescente mercato delle stampe, apprezzate e richieste dai visitatori stranieri, che ogni anno più numerosi giungono in città, lungo le rotte del Grand Tour. Piranesi riesce a emergere sulla concorrenza grazie all'abile uso della prospettiva, alle ardite e vedute aeree delle rovine, come il Colosseo o le Terme Imperiali, alla drammaticità e all'impatto visivo che riesce ad infondere nelle sue opere, grazie ad una padronanza magistrale della tecnica incisoria. Inoltre le sue rovine non sono mai isolate dal contesto, ma ne sono pienamente inserite. Tra casupole moderne, botteghe, lupanari e taverne, le vedute di Piranesi riescono a trasmettere perfettamente il senso dell'iniestricabile sovrappolizione degli strati urbani, antichi e medievali della Roma papalina. Non comunicano solo il fascino struggente delle rovine, ma riescono ad evocare perfettamente l'atmosfera di un luogo e di un tempo preciso, unendo osservazione e studio archeologico a un'attenta narrazione di minuti episodi di una sorta di arcadia urbana, che vede le vacche e le greggie al pascolo, l'asino da soma recalcitrante, i panni stesi e i vasi di piante di agrumi sulle terrazze. Nella seconda parte del Settecento Piranesi è ormai un artista affermato, ed in particolare dopo che nel 1758 viene eletto papa il veneziano Clemente XIII, iniziano a fioccare riconoscimenti e committenze più importanti. Non è più tempo di costruire nuove chiese, ma nel 1764 il nipote del papa, cardinale Giovanni Battista Rezzonico, priore dell'Ordine di Malta a Roma, gli affida la trasformazione della piccola chiesa di Santa Maria del Priolato e la piazza antistante. Si tratta del più importante incarico della carriera di architetto di Piranesi, una piccola chiesa che trasforma e riempie di decorazioni che stanno a cavallo tra il rococò e il neoclassicismo. Siamo infatti negli anni in cui si inizia ad affermare questa nuova tendenza culturale, di cui Piranesi è in un certo modo anche un anticipatore. Appassionato indagatore delle rovine romane è una sorta di archeologo antelitteram, dato che oltre che nella rappresentazione si adopera anche in veri e propri scavi alla ricerca di reperti da eventualmente anche vendere insieme alle stampe come souvenir ai turisti più facoltosi. La sua profonda conoscenza ed apprezzamento dell'architettura romana lo pone all'opposizione del tedesco Winkelmann, sostenitore del primato dell'arte greca, a favore invece della superiorità dell'architettura romana. Anche se è certamente pienamente inserito nel contesto neoclassico, però, le criticità di un artista come Piranesi ne fa allo stesso tempo un precursore della sensibilità romantica. A differenza della visione distaccata di Winkelmann, per Piranesi lo studio delle antiche rovine provoca un forte coinvolgimento emotivo. Emblematica di questa sua sensibilità pre-romantica è certamente la serie delle carceri di invenzione. Cupe e suggestive vedute immaginarie di imponenti strutture. Popolate di archi, ponti, scale che si incrociano e si sormontano, catene, argani e statue colossali. Incisioni che fin da subito affascinano i contemporanei. A partire da Horace Walpole, autore nel 1764 del primo romanzo gotico, Il castello di Otranto. Visioni che non hanno mai smesso di ispirare artisti fino ai giorni nostri.